C'è delusione in casa Teramo per gli ultimi due pareggi che hanno riaperto i giochi in vetta. Il Montesilvano ha rosicchiato ben quattro punte e Biancorossi nelle ultime due sfide e ora è a tre lunghezze dalla capolista. Izzotti è sul banco degli imputati ed è stato contestato a fine gara a Montorio. Saranno quindi decisive le prossime due sfide, Albadriatica e San Nicolò. Il diavolo è in emergenza per la trasferta di domenica, sarà privo di Colancecco, Fiorotto e Francia squalificati e Orta infortunato. Dovrebbero invece recuperare Celli e Bolzan. Anche l'Albadriatica deve rinunciare a Scaramazza e Scarpetti squalificati e De Amicis e Aloisi infortunati. Una trasferta che si annuncia insidiosissima per il Teramo che sembra aver perso il giusto smalto, quello dei tempi migliori contro una squadra riduce dal pari di San Nicolò che si è invece rivelata la sorpresa del campionato conquistando a fine girone di andata 32 punti frutto di nove vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. La società biancorossa è tornata invece sul mercato piazzando un gran colpo, l'acquisto di Roberto Ketlung nazionale cileno classe 81 che dovrebbe essere l'uomo guida del centrocampo biancorosso insieme al giovane di Polito classe 90 entrambi provenienti dalla Sant'Egidiese. Infine vi ricordiamo che la sfida contro l'Albadriatica si giocherà sul campo neutro di Nereto alle 14.30 mentre la gara di Coppa Italia contro il San Nicola sul Mona sarà disputata mercoledì 16 dicembre al nuovo stadio di Piano Daccio alle ore 20.30 e non più alle 14.30 vogliamo farvi conoscere ufficialmente il volto nuovo di questo teramo si chiama Roberto Ketlung proveniente dalla Sant'Egidiese è stato regolarmente tesserato con la società biancorossa però non potrà giocare domenica perché la sua posizione non è ancora regolarizzata però contento di questa destinazione? Sì, molto contento, con molta ansia di cominciare a lavorare a far bene pure qui e da inserirmi in un gruppo che sta andando alla grande che si vedono compagni, molti lavoratori, molti sedi sperando che arrivi il giorno dell'esordio Perché il divorzio dalla Sant'Egidiese? Non è stato un divorzio, è stata solo una valutazione di situazione, la proposta che c'era qua era molto interessante poi il progetto che hanno qui ho dovuto fare delle scelte e ho deciso di venire qui Cosa conosci di Teramo? Lo Teramo? Dal Teramo sono la sua tradizione una squadra che è stata parecchi anni nella CIG che adesso sta facendo tutto per tornare a quelle categorie che sta facendo alla grande questo campionato è una società molto seria che ha degli obiettivi concreti quindi penso che qui ci siano tutte le condizioni per svolgere un lavoro serio Vuoi farti conoscere un po' le tue caratteristiche? La tua specialità, diciamo? Io sono uno che si sacrifica molto in beneficio del gruppo amo il calcio mi piace ogni giorno allenarmi, giocare e quando capita calcio un po' bene le punizioni quest'anno sta andando abbastanza bene speriamo che pure qui continui così Quanti gol hai segnato? Cinque, quali quattro di punizione? Dovresti poi essere un po' il regista di questa squadra? Cercheremo di dare una mano in centro campo però se la metteremo tutta Un'ultima cosa, conosci qualcuno dei nuovi compagni? Ho conosciuto oggi il mister oggi ho conosciuto i compagni mi hanno parlato un po' di di quello che giocava Sant'Egidia l'anno scorso di Dario Celli lo conoscono tutti là e poi è venuto pure qua a Dipolito che è stato compagno mio in questi cinque mesi Un'ultima cosa, quindi ti aspettiamo per domenica prossima insomma, sarai pronto in campo ai tifosi cosa diciamo? Sì, sì ai tifosi niente mi auguro che continui ad appoggiare la squadra come l'hanno fatto fino adesso perché io leggo sempre il giornale vedo i servizi di partita e sempre c'è un bel marco di tifosi qua e niente, ce la metteremo tutta per continuare su questa strada vincente Grazie Siamo con Dario Celli che è uno degli infortunati però pare che abbia recuperato quindi sei pronto per domenica quali sono le tue condizioni fisiche? Sì, sì in questa settimana mi sono allenato con la squadra quindi penso di essere a disposizione domenica Un momento un pochino delicato questo per il termo vi attende una trasferta ostica voi giocherete tra l'altro senza tanti titolari insomma properete comunque ugualmente a vincere Sì, questo sicuramente è un periodo che ci presentiamo veramente rimaneggiati alle partite periodo difficile riusciamo a fare risultato un po' con difficoltà sicuramente anche domenica sarà difficile perché ci mancano tanti anche squalificati da Montorio però vabbè andiamo in campo sicuramente non partiremo battuti e ci metteremo lo spirito forse anche di più di quello delle ultime giornate Allora Domenico Izzotti vogliamo fare intanto un bilancio di questa prima parte del campionato soddisfatto? Ti aspettavi qualcosa di più per quanto riguarda i punti in classifica? Ma per i punti qualche punto di più me lo aspettavo io ho già detto in tutta stagione che il Teramo non deve stravincere ma deve vincere abbiamo tre punti di vantaggio devo anche menzionare il fatto che da tre o quattro settimane a questa parte le assenze sono aumentate rispetto a quello che è scelta anche tempo dietro però non mi pare di essermi mai lamentato è chiaro però che devo fare i conti anche in questa situazione che a volte penalizza sia il lavoro settimanale ma sia anche la prestazione domenicale Ecco allora che partita proviamo a immaginare verrà fuori dal Badriatica non si affrontano due squadre in formazione rimaneggiata soprattutto il Teramo un Teramo che però non parte battuto proverà comunque a vincere che gara ne verrà fuori? Il Teramo non può pensare assolutamente di partire battuto deve pensare di vincere al di là degli uomini che mancheranno non sono allenatore che ha messo mai le mani avanti non lo farò mai il Teramo deve avere uno spirito vincente a volte c'è riuscito altre volte meno spero che il cambio dal Badriatica un atteggiamento positivo Per la formazione a centrocampo soprattutto mancheranno Colancecco Francia, Bolzan intanto chi potrai recuperare di questi infortunati? Bolzan e Vitale come stanno? Vitale non lo recupererò sicuramente Bolzan sono buone possibilità e a conti fatti se dovesse recuperare Bolzan potrei optare per un sistema di gioco che potrebbe essere un 3-4-3 nel caso in cui invece non dovesse essere Bolzan dovrei ritornare a un 4-4-2 ma è una scelta che farò solo domani o addirittura prima della partita ma è un 4-4-3 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 Grazie a tutti